E no ragazzi, questa volta il titolo non è soltanto clickbait, è un titolo un pochino provocatorio, volutamente provocatorio perché sarà una delle tematiche delle quali discutiremo insieme nei prossimi minuti ma a qualcuno, dei ragazzi che ha fatto questo programma ma anche del pubblico, piace Chiara? Ciao ragazzi e ragazzi e ben ritornati qui sul canale per un nuovo video a tema matrimonio a prima vista Italia come potete ben notare dalla location scelta sta anche piovendo, tra le altre cose mi sono ridotto all'ultimo per fare questo video e soprattutto ho disatteso le aspettative con il video che avrei dovuto pubblicare ieri un video particolarmente importante per me, un video nel quale io voglio mettere un punto molti di voi mi hanno scritto, Marco ma perché devi pubblicare per forza questo video? ed effettivamente non è che avete tutti i torti voi che me l'avete chiesto la verità è che appunto voglio mettere la parola fine a delle discussioni anche se so che naturalmente pubblicando un contenuto del genere poi darei adito ad altre disquisizioni però non l'ho pubblicato ieri perché non ho avuto il tempo materiale di scriverlo bene e mi ero fatto una tabella di marcia mentale per la quale avrei avuto qualche giorno per poterlo fare tra lunedì e martedì ma così non è stato per dei sovraggiunti impegni di lavoro e poi per un problemino, fiorella la febbre e quindi mia figlia ovviamente ha la priorità su tutto e se sto registrando questo video alle 19.47 quando questo video dovrebbe essere pubblicato alle 20 vuol dire ragazzi che purtroppo sto incasinato, sto messo male, sto inguagliato quindi vi chiedo perdono insomma perché questo video arriva così in ritardo vi chiedo perdono per il video di ieri che comunque arriverà ma rispetto alla volta scorsa non voglio darvi nessuna data e nessuna previsione perciò iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi le notifiche su questo canale in modo tale appunto che oltre a supportarmi avete anche un pro memoria su quando uscirà questo video poi mi sembra che siamo vicini a 16.000 iscritti, mi sembra adesso potrebbe aver perso il numero giusto insomma iscrivetevi al canale ragazzi, aiutatemi e supportatemi contro i poteri forti e parleremo poi dei poteri forti eh, non oggi però Banda le ciance andiamo a parlare di questa puntata Reunion innanzitutto un incipit importante, puntata Reunion che arriva alla sesta puntata nella storia di matrimonio a prima vista mai c'è stata la Reunion se non qualche incontro preliminare tra gli sposi, quello sì è avvenuto prima ma la vera Reunion non è mai arrivata la sesta puntata, è sempre arrivata la settima puntata voi direte, c'è una grande differenza in questo? Fondamentalmente no, le differenze vere sono magari altre ne parliamo tra poco, però, però un aspetto sicuramente interessante di cui poter dibattere è il fatto che avremo un'altra puntata prima della scelta cioè quella che vedrò appena finisco di chiudere questo video a cena con Simona ovvero un'altra puntata prima della scelta finale e quindi potremo vedere un'ora di puntata, un'ora di sceneggiato con, diciamo, i rimasugli di quello che è successo a Reunion e quindi sono molto curioso di vedere la prossima puntata puntata Reunion che arriva quindi alla sesta puntata e voglio dire subito una cosa, a me questa puntata è piaciuta molto continua a piacermi questa narrazione che viene data si vede che c'è una mano nuova, una mano diversa dietro a delle scelte autoriali e come io sono quello che ho spesso criticato critica, eh, non infami e quant'altro, critica sono uno che ha spesso criticato il programma devo dire che questa stagione, dal punto di vista anche delle novità, dei tentativi, degli espedienti narrativi sta portando delle cose molto buone come ad esempio, secondo me è stata molto carina l'idea come ad esempio per me è stata molto carina l'idea del set fotografico fatto fare agli sposi tanto bene dalla stessa fotografa degli matrimoni e a distanza di quel lasso di tempo che ti può permettere anche di scorgere poi quelle che sono le differenze tra i ragazzi nel giorno in cui si sono conosciuti e sposati e invece in un giorno molto vicino alla scelta ora non sappiamo bene quanto, però insomma abbastanza vicino alla scelta quell'idea, quell'esperiente narrativo mi è piaciuto molto troviamo le coppie nel complesso abbastanza armoniose davanti all'obiettivo della fotografa tranne Chiara e Pietro che, vi anticipo, saranno un po' le vicentro di questa puntata è un Pietro che arriva allo shooting fotografico, diciamo, per dire in un termine tecnico con il culetto rigirato, comunque molto contariato si parla anche di problematiche legate al lavoro e guardate bene ragazzi, ci sta perché non vi dimenticate mai che queste puntate si giano quando uno comunque porta avanti la sua vita normale io ricordo che nella mia esperienza mi dividevo tra lavoro e registrazione di Marimonio a prima vista con viaggi da Terni e Milano, insomma, posso dirvi che è sicuramente un aspetto di cui dover veramente tenere conto però insomma ecco, tolto Chiara e Pietro che c'è un po' di freddezza soprattutto da parte di Pietro nella parte di shooting gli shooting sono stati carini ed è un'idea che ho apprezzato ho apprezzato però ancora di più, se devo essere schietto e sincero proprio come è stata impostata la reunion, anche se, anche se, perché un po' di critica dobbiamo farla se no non stareste sul canale di Marco Lompietti, stareste sul canale di Real Time anche se mi sarebbe piaciuto che questa idea di reunion fatta in un appartamento tutti insieme a Milano fosse durata un paio di giorni in più cioè anziché soltanto una notte, soltanto una scena che ci fosse stata una convivenza di due o tre giorni insomma avrei credito qualche giorno in più di presenza a tutti e sei i protagonisti di questa stagione insieme per vedere se magari si sarebbe potuta creare qualche dinamica particolare per farli conoscere meglio non lo so, mi sarebbe piaciuto invece così la vedo come un'occasione di novità positiva ma alla quale è mancato un pizzico di innovazione in più ribadisco, mi è piaciuta l'idea della reunion tutti insieme in un unico appartamento ad esempio a Simona, a mia Simona non è piaciuta a me è piaciuta invece come idea anzi l'avrei anche apprezzata mettendomi io in prima persona però un pochino di più così mi è sembrata un'occasione un po' persa non so, fatemi sapere voi tra i commenti che cosa ne pensate e sto pensando che nel frattempo non vi ho parlato ancora dello sponsor di questo video che è cambiato, no sto scherzando, non è cambiato è sempre Marco Rompietti, videomaker e già ragazzi, se questi video erano in ritardo la colpa è della mia attività di videomaker che è veramente molto molto intensa ma per la quale sono contentissimo perché da quando ho iniziato ad aprire i motori della mia attività come videomaker matrimonialista e per aziende, oltre che per eventi sportivi diciamo che la mia vita è anche un po' cambiata e tutto questo lo devo anche grazie a voi che mi supportate in questi video la stagione 2024 dei matrimoni si è conclusa ne ho fatti veramente tanti ho raccontato tantissime storie ora sono lì al computer a impazzire per montare tutto quanto ma con grandissima soddisfazione vi dico anche che l'agenda del 2025 dei matrimoni è quasi piena non sto blefando, è davvero quasi piena e sono veramente contento e gasatissimo all'idea dei matrimoni che dovrò fare nel prossimo anno ma ci sono delle disponibilità perciò contattatemi al form del mio sito marcolompietti.com se volete richiedere un preventivo o se volete scoprire se la vostra data è libera o meno ma come sempre vi ricordo che la mia attività si basa anche sui video aziendali lavoro per tante aziende non soltanto a Terni mi muovo anche in tutta Italia volendo quindi posso raggiungere sia per i matrimoni che per l'azienda e tutto lo stivale l'ho già fatto e non vedo l'ora di continuare a farlo insomma marcolompietti videomaker vi aspetta su www.marcolompietti.com torniamo a parlare di matrimoni a prima vista che è tardi allora ragazzi voglio partire subito con la tematica che è stata in là al titolo di questo video perché la sensazione vedendo la puntata Reunion è che nei confessionali soprattutto Asia e Anthony ma non solo diciamo che si sono lasciati andare a dei commenti non proprio lo swinghieri su Chiara quindi Chiara non ha riscontrato le simpatie dei ragazzi della Reunion almeno questa è la percezione che ho avuto io ma mi sembra abbastanza chiara dai confessionali fatti noto anche tra i commenti che Chiara non sta riscontrando grandi simpatie in generale io invece voglio spezzare una lancia in favore di Chiara secondo me Chiara sta pagando Dazio per essere un po' troppo perfettina un po' troppo precisina e più che altro con un altro aspetto che vi dirò tra poco ma nel complesso è una ragazza che trovo molto gradevole che non sta esprimendo al 100% il suo potenziale ad ogni modo questa non simpatia verso Chiara da una parte però devo dire che mi ha mi ha dato due tronconi di pensiero separati che voglio condividere con voi e voglio poi leggere la vostra insomma riguardo qua sotto nei commenti da una parte apprezzo la sincerità del confessionale molto spesso nelle Reunion soprattutto negli ultimi anni ma anche prima si va un po' tanto a paventare questa velata amicizia tra i partecipanti ora è vero che quando hai fatto un percorso così unico così speciale ti viene voglia di condividere ti viene voglia di fare amicizia con i partecipanti del programma però molto spesso i protagonisti sono veramente tanto diversi e molto spesso le amicizie mi sembrano un po' forzate quindi questa sincerità estrema soprattutto di Asia Anthony verso Chiara l'ho trovata coerente certo, certo fosse in Chiara a rivedere questi confessionali beh ci rimarrei un pochino male quindi sono un po' diviso tra la schietta sincerità dei ragazzi nel dire nel far capire insomma che Chiara non è che gli sia andata tanta genio almeno nella Reunion e sono un po' diviso con la mancanza pagare di tatto in un certo senso per quanto però nel confessionale uno deve dire la verità perché altrimenti si fa il gioco delle tre carte e diventa tutto un pochino più monotono uno potrebbe anche dire perché certe cose mi hanno detto di persona in faccia perché non c'è stato il pretesto perché comunque io so anche come funzionano questi confessionali ossia si parla tanto molto più di quello che uno vede e quindi magari hanno anche l'autore è stato anche bravo a tirare fuori certe parole a Asia e Anthony ad ogni modo Chiara esce da questa Reunion come un personaggio non particolarmente gradito alle altre ragazze soprattutto perché anche Valentina mi sembra che non l'abbia trovato un grande punto d'incontro ma va detto che sono tre ragazze molto diverse io credo anche che l'aspetto anagrafico non giochi a favore di Chiara che se non vado errato potrei sbagliare dovrebbe avere più o meno l'età mia o hanno più o hanno meno ma credo più o hanno meno per fortuna di Chiara dovrebbe avere l'età mia mentre Asia e Valentina sono un po' più piccoline non che cambi tantissimo però magari c'è anche un'impostazione caratteriale differente e come ogni reunion degna di questo nome si arriva anche al punto focale cardine dell'argomento sesso e arriva da parte delle ragazze anche qui non è che sono tanto sorpreso diciamo che me l'aspettavo ed è Valentina che tira fuori l'argomento per la serie ma voi l'hete fatto o non l'hete fatto in che rapporti siete con il vostro marito che ci state giusto vabbè qui emerge l'ovvio ovvero che tra Eric e Valentina c'è stata dell'intimità che tra Anthony e Asia c'è dell'intimità ma Chiara invece dice di voler attendere la scelta finale se ho capito bene almeno questo mi è parso di aver compreso dalle parole di Chiara e sono curioso anche qui di sapere la vostra opinione al riguardo perché secondo me questa di Chiara di voler attendere la scelta per sbilanciarsi anche fisicamente l'ho trovata passatemi il termine una furbata una furberia allora se ti piace una persona stai facendo questo esperimento è anche nel sesso che ci si conosce questo l'ha detto Valentina mi sembra in un confessionale o forse anche proprio direttamente alle ragazze e sono molto più d'accordo con Valentina che non con Chiara sotto questo principio mi sembra questa di Chiara una furberia allora bisogna essere chiari su un aspetto non è che il sesso è determinante ma è molto importante non è determinante ma è molto importante e magari anche tramite il sesso si capisce ancor di più se c'è dell'alchimia con la persona alla quale si è stati accoppiati quindi secondo me questo voler attendere da parte di Chiara insomma l'ho trovata come una furbata sapete bene che nelle varie puntate ho sempre detto una cosa che secondo me a Chiara non piace Pietro ho questa percezione ma che sta cercando di rispettare e onorare l'esperimento ma a Chiara non piace Pietro e io credo che Chiara stia un po' cercando di tergiversare il problema è che nel frattempo Pietro visibilmente sta soffrendo un pochino questo aspetto e ha maggior ragione lo sta soffrendo nel confronto con le altre coppie perché ragazzi la reunion è fatta anche per questo le coppie che vanno bene a reunion tendenzialmente continuano ad andare ancora meglio nel confronto con quelle che vanno male le reunion distruggono ulteriormente le coppie che hanno magari un po' più di difficoltà qui siamo di fronte a un'edizione dove potenzialmente abbiamo 6 sì potenzialmente abbiamo tre coppie che alla scelta diranno di sì anzi mi sbilancio ve lo dico già adesso ma li parliamo meglio dopo saranno per me 6 sì alla fine della scelta della scelta scelta non puntata e poi non oggi scelta però è innegabile che Chiara e Pietro sono un pochino più indietro rispetto alle altre due coppie a livello proprio di alchimia e soprattutto nell'aspetto fisico e la reunion in genere tende un pochino a massacrare la coppia che invece ha una difficoltà o comunque ad acuirne questi aspetti negativi basti pensare al momento delle foto quando ci sono le foto tutti si commuovono ma tutti si baciano tutti stanno quasi per fare un figlio lì davanti al divano tranne Chiara e Pietro che sì si danno la mano ma Pietro è visibilmente scosso è scosso perché? perché abbiamo parlato del Pietro narcisista ma anche del Pietro fragile del Pietro che probabilmente sta soffrendo nel vedere questa situazione entrando in un'altra macchina raga è tanto difficile questo video sta diventando un sacco difficile anche perché mi sono interrotto già 4-5 volte tra una macchina e un'altra il tizio che passa la bicicletta beh purtroppo fa parte di questo mestiere e io capisco molto bene ragazzi il sentiment che ha avuto Pietro lo comprendo totalmente perché penso che quando sei lì vedi le altre coppie che bene o male riescono anche con delle difficoltà ma ad andare avanti e tu sei un po' fermo a un certo punto beh questa cosa ti fa male e lo posso comprendere bene nel confronto che seguo tra Pietro e Chiara devo dire che ci ho capito poco nel senso che l'ho trovato un confronto un po' confusionario Pietro fa fatica a far comprendere alla moglie quale sia il suo disagio perché Pietro mi sembra una persona divisa tra il dover far vedere di essere tutto ad un pezzo e il nascondere le sue fragilità le sue emotività le sue difficoltà Pietro per me ha accusato il colpo di essere un passo indietro rispetto alle altre due coppie e di essere un passo indietro rispetto agli altri due sposi questa è la mia percezione e lui si è visto in una condizione più castrante dove ha capito che forse la moglie insomma ha qualche reticenza non riesce a sbloccarsi come lui vorrebbe e lui non ha in questo momento il polso la situazione per sbloccare la situazione ma non perché Pietro non ne ha le qualità non ne avrebbe le possibilità perché trovo Pietro anche molto brillante ma perché non c'è non c'è quel meccanismo e lui lo sta soffrendo poi la puntata finisce con un bel confronto da Pietro e Nata l'ho apprezzato molto non vediamo gli esperti nella reunion va bene ci può anche stare ma vediamo Nata che fa un intervento anche abbastanza lungo e soddisfacente con Pietro e Pietro che nel finale di puntata dice adesso voglio mettercela tutta per mandare in porto per mandare bene questo matrimonio e ripeto spoiler per me questo avverrà alla fine della scelta per il resto non è che ci sono tantissime tematiche da dire se non Valentina che fa una battuta cioè una battuta insomma dice una frase che fa un po' storci di naso Asia cioè ovvero quando Valentina sostiene magari secondo me si è espressa male Asia cioè si è un po' piccata quando Valentina ha detto che magari Anthony Asia stanno vivendo una fase perché sono tornati più tardi a viaggio di nozze quindi c'è questa fase delle farfalle nello stomaco Asia si è un po' risentita perché Asia dice no questa non è una fase siamo già un bel passo avanti ecco in questa reunion dobbiamo dire chiaramente che Anthony Asia si pongono veramente tanto come coppia e questo a me è piaciuto molto Anthony Asia continuano a stupirmi mi stupisce lei ma non perché avessi dei dubbi di lei sulla persona ma perché pensavo che Asia avrebbe cercato più ragnatele nell'armadio di Anthony invece si sta veramente giocando bene le sue carte e ragazzi sono una coppia che funziona che va a gonfie vele è molto carino anche quando Anthony si commuove nel confessionale verosimilmente fatto la mattina dopo ripensando le emozioni della sera prima dell'album e tutto è una coppia alla quale c'è poco a dire mi sono piaciuti anche molto Eric e Valentina sapete v'ho detto e tuttora non ho ancora un bel quadro definito soprattutto su Eric e di questo parleremo e vedremo nelle prossime puntate però mi è piaciuto molto per esempio il fatto che loro due si sono fermati il giorno dopo della reunion per fare un'altra notte a Milano cioè ho visto quella voglia di conoscersi oltre le telecamere che è un qualcosa che spesso manca a matrimoni a prima vista così come bella è stata la sorpresa che ha fatto Valentina Eric insomma le coppie stanno viaggiando bene sono molto curioso di vedere adesso quello che succederà nella puntata pre scelta finale e come vi ho detto in apertura di video per me alla scelta troveremo tutti sì sì potrebbe starci il dubbio su Pietro e Chiara ma secondo me anche lì alla fine andremo verso uno sbocco positivo il vero problema è l'oggi e vi dissi mi sembra dopo il secondo video che abbiamo fatto di questa stagione nel terzo vi dissi che secondo me nessuna coppia oggi sta insieme vi dico la sincerità spero di sbagliarmi su Anthony Asia soprattutto perché sono veramente belli e mi dispiacerebbe tanto ma non perché Eric e Valentina Chiara Pietro non lo sono ma perché Anthony Asia li vedo più più vanno avanti le puntate più li vedo complici li vedo giusti l'uno per l'altro mentre nelle altre due coppie ci sono degli incassi molto interessanti ma che secondo me hanno delle problematiche Eric e Valentina banalmente quella geografica e c'è stato un momento nella puntata Reunion dove si è parlato di questo aspetto cioè della fortuna di Anthony Asia di essere vicini mentre Eric e Valentina hanno comunque quelle due rette e mezzo di viaggio che può incidere insomma ragazzi può incidere sicuramente sì nell'esperimento quindi ecco una puntata che non ci dà grandissimi stravolgimenti è molto chiara e pietrocentrica se vogliamo ci dà delle novità di espedienti narrativi del programma e di questo sono veramente contento e ci rimanda a questa puntata che devo andare a vedere appena stacco questo video lo monterò in fretta e furia ci rimanda un po' a quello che andremo a vedere poi nella scelta finale perché la prossima puntata non c'è la scelta ragazzi non vi sbagliate non c'è la scelta ma c'è il prescelta ed è curioso perché poi non abbiamo visto ad esempio Valentina andare da Eric non abbiamo visto Anthony se si sposta anche dalle parti di Asia insomma non abbiamo visto alcune cose che personalmente vi incuriosiscono molto secondo me la prossima puntata sarà un po' più piattina ok ma ci preparerà per un gran finale della scelta poi sulla scelta parleremo come sempre del fatto che se la scelta me la fai dico adesso una data a casa me la fai a maggio e poi le poi e poi le poi bel gioco di parole vabbè e poi la puntata delle poi me la fai un mese dopo due mesi dopo le poi perde di senso ma di questo ne parleremo poi visto che l'autorato e la produzione mi sta stupendo in questa stagione con tante cose positive voglio essere ottimista anche per l'epilogo di questa di questa stagione di Mariamone a prima vista è una stagione che a me sta piacendo ripeto c'è un'ultima cosa che voglio dire perché ne abbiamo parlato spesso nei commenti qua sotto io ho fatto la citazione che la gente vuole vedere il sangue molti mi hanno smentito hanno detto no non è vero io non sto parlando di tutti perché anche io ad esempio non è che voglio per forza il sangue è chiaro che la dinamica dove c'è lo scontro è molto attrattiva però il sangue non lo voglio nemmeno io è normale però che se noi andiamo avanti con altre puntate molto diciamo bilanciate senza grandi scossoni e poi magari ci troviamo che le coppie dicono tutte di sì anche alla scelta anche alle poi e poi sui social vediamo che non stanno insieme ci chiediamo what? che cosa è successo? io intendo anche questo cioè che a volte magari alcune dinamiche di scontro è meglio vederle prima perché è un programma televisivo pubblico e perché tutti dobbiamo un pochino sapere se no che vi siete messi in gioco a fare in tv dobbiamo sapere perché una coppia funziona o una coppia non funziona vi basti pensare a Sony Alberto per esempio Sony Alberto a livello televisivo nessuno sa perché si sono lasciati ma per vostra fortuna c'è il mio video intervista con Alberto che spiega qualcosina ma sono tante coppie dove non abbiamo un riscontro televisivo in realtà però noi stiamo commentando un programma televisivo che parla di sentimenti è vero che parla anche di vite private è verissimo ma quando poi ti metti in gioco in un contesto pubblico devi anche accettare quel tipo di tornaconto ho parlato anche troppo e non so neanche se mi sono spiegato bene io vi dico soltanto che il video finisce qui ci vediamo mercoledì prossimo spera alle 20 scusatemi ancora per tutti questi disguidi anche questo set di notte un po' improvvisato con una luce farlocca un faro giallogno lo spero che in post produzione sono riuscito a correggerlo sto già parlando al passato di me ma ci siamo perditi saluto saluto anche l'ultimo passante di questo video questo non lo censuro tanto è sfogato non si vede viva la privacy ci vediamo al prossimo video ciao